Amici di Pimonte e della Campania, sono Silvio Berlusconi. Volevo invitarvi lunedì 24 marzo 2014 alle ore 15.30 a Questo deve essere il posto, trasmissione che andrà in onda su Radio Pimonte Sound, dove avremo modo insieme a voi di parlare di ciò che sta accadendo in Italia alla mia persona. Un saluto a tutti i circoli, forza Silvio, un saluto a Pimonte, un saluto a Radio Pimonte Sound.